Parliamo di TAC Calcium Score, che cos'è e per chi è indicata? L'esame TAC per la ricerca del calcio a livello delle coronarie è un esame che ci dà un'informazione piuttosto grossolana sulla probabilità che può avere il paziente per avere una sindrome coronarica acuta, cioè un infarto. L'esame viene fatto con una macchina TC di ultima generazione con bassa dose di radiazione, infatti solo le TAC di ultima generazione riescono a somministrare al paziente una bassa dose di radiazione, in quanto in precedenza questo non avveniva. Un'innovazione diagnostica che garantisce la possibilità di valutare le eventuali calcificazioni delle arterie coronariche grazie a una scansione volumetrica sincronizzata con la traccia dell'elettrocardiogramma. Quindi a chi si sente di consigliare questo tipo di esame? Questo esame è consigliato sempre sull'indicazione del medico curante e dello specialista, in quanto essendo degli esami in cui si utilizzano delle radiazioni ionizzanti c'è bisogno della prescrizione medica. va eseguito ai pazienti a rischio, che possono essere i pazienti diabetici, i pazienti fumatori, oppure coloro che hanno un'ipertensione che non si riesce a controllare, o coloro che hanno una dislipitemia, cioè il colesterolo alto. Il vantaggio di questo test è che quando non ci sono calcificazioni è poco probabile, il rischio che il paziente abbia un infarto è veramente basso, questo si chiama valore predittivo negativo, che è intorno al 98%. Questo non significa che chi non ha per niente calcificazioni è sicuro che non abbia l'infarto, no, può avere l'infarto però è una probabilità molto bassa. Mentre coloro che hanno delle calcificazioni alle coronarie non è sicuro che abbiano un infarto, però ha una probabilità, secondo la percentuale di calcificazioni che sono sulle pareti dei vasi coronarici, che può essere media oppure un rischio elevato. Grazie.